un'espressione corporea che lei, cioè nel senso, c'è tanto, tanto da dare in questo pezzo questo pezzo è un pezzo di Chris Isaac che si titola Wicked Game aspettate un attimo, ho nebrato la chitarra allora, un pezzo per chi se lo ricorda palesava Chris Isaac sulla spiaggia insieme a una che poi diciamo una lingua purissima e intanto c'era questa cosa e poi cominciamo a cantare grazie a tutti 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 grazie a tutti